Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova gameplay di GTA Vice City, continuiamo di nuovo ancora le missioni di Ken Rosenberg, sono mossa, non mi avete visto stare chiedendo come faccio a vedere tutti questi soldi all'inizio del gioco, ho fatto missioni infermigli che bello avevo voglia di registrarlo, e poi questo è l'inizio che poi sbloccheremo anche le le missioni, e a aver il link che torno a vedere, ok, cosa faccio per te? Questa servizio ha un depo di prima, non vendono, stanno guardando, stanno guardando, stanno guardando come una grande piazza, quindi dobbiamo andare in là e sbloccare il vermino, andate in là e sbloccare un pezzo di pezzi, la sicurezza avrà la mano, e poi puoi andare in e lasciarli fuori di negozio, e tu puoi lasciare a Raffaele per un cambiamento di vestiti, potrebbe essere là un po' 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 come se fossi una nuova novità il cambio d'abito. andiamo prima a cambiare l'acidabile e facciamo questo stack up di punta di emissione andiamo a regolare gli arboli al massimo dobbiamo far scatenare proprio il putiferio andiamo a cambiare l'ambito sono proprio belli vestiti da muraturi vedete che la camicia paiana rimane però quando vieni da vestiti da muraturi ok andiamo spaccare scateniamo per le il nostro obiettivo fa proprio scatenare la risa contro gli attimulatori ok hai lavorato ok mazza ok va wow se questo non li togli il cane che non c'è la miglia lato cacchio 2-6 ok no proprio va bene questo modo abbiamo sbloccato le nuove mission eh ragazzi vabbè non so se ci arriva qualche chiamata da cellulare ma io voglio andare ok 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 non so che ci possiamo vorrei salutare qui dopo questo video è tutto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.